Benvenuti alle anticipazioni dell'edizione di oggi del Tg7. Apriremo con la cronaca, con il furto ai danni del distributore Lucoil. Ci sposteremo a Itri con un sequestro operato dalla Guardia Forestale. Come sempre ci collegheremo con la nostra redazione per le principali notizie dalla provincia. Il nostro olio extravergine d'oliva arriva sulle tavole degli americani a 38 dollari. Ne parleremo nel nostro Tg. È partita oggi a Sperlonga la seconda edizione del Festival dedicato all'arte dell'acquarello. Torneremo a Fondi per parlare della trentesima edizione della pedalata di Primavera Città di Fondi del 1 maggio. Concluderemo con la pagina sportiva, con i risultati dello scorso weekend dei campionati di calcio A5, Serie C1 e Serie D e i risultati di Juniores Nazionale e Giovanissimi Regionali dell'Unicosano Fondi. Tutto questo e molto altro al nostro Tg a tra poco. Bentornati al nostro Tg. Il distributore Lucoil, in funzione da 5 anni sulla Fondi Sperlonga, l'altezza del bivio, oggi rotonda, chiamata Casotto Rosso, è stato preso di mira la notte scorsa da ladri che, dopo essere entrati nel gabbiotto del gestore, hanno staccato la corrente che alimenta anche l'impianto di videosorveglianza e gli elettrodomestici della adiacente struttura del bar annesso all'impianto. Una volta dentro, con una mazza di ferro e un piccone, hanno praticato un foro nella parete divisoria che separa il primo locale da quello dove era fissata a terra una cassaforte e l'hanno portata via. A dare l'allarme è stato il barista, che, recatosi prima dell'alba al lavoro, ha trovato la macchina del caffè spenta per mancanza di corrente. Un rapido giro gli ha subito consentito di rendersi conto del furto perpetrato qualche ora prima. Sull'episodio indagano i rabbinieri della locale tenenza, i quali si stanno avvalendo di ogni minimo elemento utile per l'individuazione degli autori del colpo, che, secondo indiscrezioni trapelate dai vicini, avrebbe fruttato ai malviventi circa 6.000 euro. Sulla porta d'ingresso del gabbiotto non sono presenti segni di efforazione. Nei giorni scorsi, a Itri è stata sequestrata dal personale del Comando Stazione Forestale una piattaforma in cemento armato per la realizzazione di una stazione per la telefonia mobile in località San Cristoforo. Il tutto è avvenuto a seguito di indagini, esperite dai agenti accertatori su posto, di un comitato di cittadini locale, che hanno permesso di accertare alcuni vizi procedurali nell'iter amministrativo autorizzatorio, che di fatto inficirebbe la legittimazione della società Wind Telecomunicazioni alla realizzazione della stazione in parola. Sono stati pertanto denunciati la società committente, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici le opere fino al momento realizzate, oltre che la proprietà del terreno. L'intervento dei uomini della forestale ha permesso di bloccare la prosecuzione dei lavori in un'area ubicata a poca distanza da un sito di interesse archeologico. Domenica 1 maggio si svolgeranno senza eccezione le tradizionali attività di mercato dominicale, che avranno luogo come consuetudine presso via Mola di Santa Maria e presso la struttura in via Gioberti. A renderlo noto il sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, e l'assessore alle attività produttive, Giorgia Salemme. La società Acqua Latina informa che al fine di permettere lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica del comune di Fondi, in via Matarazzo e in via Vittorio Emanuele Orlando, si verificherà un'interruzione del flusso idrico dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di venerdì 29 aprile. Sarà cura di Acqua Latina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti. Ci colleghiamo ora con la nostra redazione, dove Valentina Teseo ci informa sulle principali notizie dalla provincia. Grazie Ilaria per la linea e partiamo dalla cronaca. Una vacanza a Cuba divenuta una disavventura per una 39enne di Sabaudia. Un bagno si è trasformato in un incubo per la turista. Un barracuda, attirato da alcuni brillantini che la ragazza aveva sul costume, le ha provocato una profonda ferita con un morso in pieno labbro inferiore. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata presso un ambulatorio, dove è stata medicata con 18 punti. Un imprenditore di Latina è stato condannato a sei anni per violenza sessuale sul minore. I fatti risalgono al 2007. Il giovane, un 17enne di Borgo Ermada, vittima di alcuni problemi psichici, riferì nel 2008 di una lunga serie di abusi subiti da parte di un 61enne, un amico di famiglia. Da lì le indagini e il processo. Ci spostiamo a Terracina, dove i carabinieri hanno arrestato nella notte un 21enne del posto in flagranza di reato. Il giovane, dopo aver forzato un infisso, si è introdotto nei locali di un'agenzia immobiliare, ma poco dopo si era visto arrivare i carabinieri che lo hanno bloccato prima che potesse portare a termine il colpo. A distanza di ben 4 anni, l'esame delle impronte digitali ha consentito ai carabinieri della stazione di Latina di identificare e denunciare in stato di libertà l'autore di un furto. Si tratta di un 27enne cittadino di nazionalità rumena, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Brescia. Nei suoi confronti sono emersi gravi indizi di reità. L'episodio risale al mese di settembre del 2012, quando l'uomo riuscì ad entrare negli uffici di un noto studio legale di Latina, asportando un computer. Queste le principali notizie di oggi dalla provincia, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina, torniamo alle nostre notizie. Il nostro olio extravergine d'oliva nel mirino degli americani. Una notizia che giunge direttamente da Lenola, produttrice doc del cultivar itrano, dove nei mesi scorsi ha prodato John Mancini, diretto discendente di autentici lenolesi emigrati in America anni fa. A ben 65 anni, John Mancini, che ha speso una vita in affari di successo in diversi settori negli USA, sulle insistenze di indipendente con cui condivide le radici pontine, è giunto nella genuina terra d'origine, ispezionando ettari ed ettari di terreno con la preziosa guida di un esperto locale. Una singolare esplorazione che ha convinto Mancini ad acquistare 2200 piante nella zona di Lenola. Una lavorazione tutta italiana che ha coinvolto il frantoio Marco Guglietta, con il quale è nata una collaborazione vincente. Il prodotto che ne è venuto fuori ha riscosso da subito un'enorme fama. Il cultivar itrano di Mancini ha infatti compiuto un percorso di ascesa, segnato da riconoscimenti e pubblici elogi, a partire da un primo autorevole riconoscimento del prestigiosissimo concorso internazionale di New York, fino alla tracciabilità del sistema Onasco e la certificazione DOP. L'olio tipico delle nostre zone è così finito sulle tavole degli americani, e anche a caro prezzo, con il valore di ben 38 dollari al litro. È partita oggi la seconda edizione del festival dedicato alla suggestiva arte dell'acquarello, che ha stupito e incantato il pubblico, ben oltre le aspettative delle appassionate organizzatrici, Annalisa Radice dell'Associazione Culturale Oltre il Mare e Maria Celeste Gaiardi. Il Borgo Marinaro di Sperlonga, e in particolare la Torre Truia, accoglierà dal 28 aprile fino al 1 maggio prossimo la seconda edizione del festival. Patrocinata dall'Assessorato all'Ambiente e alla Qualità della Vita, la rassegna riunirà sette tra i maggiori acquarellisti del mondo, provenienti da USA, Spagna, Russia, Scozia, Italia e Inghilterra. L'evento si delineerà in un piacevole full immersion di quattro giorni tra i colori e luci, non solo con l'esposizione di opere, ma anche con un'esperienza sensoriale e visiva, con grandi maestri che vedremo all'opera, negli angoli più soggettivi di Sperlunga, dialogando con la gente e mostrando la propria arte oltre alle straordinarie capacità pittoriche. Avrà luogo domenica 1 maggio la trentesima edizione della Pedalata di Primavera Città di Fondi, un'occasione per valorizzare i modelli di vita più sostenibili e le meraviglie del nostro territorio, grazie alla bicicletta che è un mezzo salutare, ecologico ed economico. La prima tappa della pedalata sarà Piazza Unità d'Italia, dove i partecipanti si ritroveranno alle ore 9. I concorrenti approderanno poi intorno alle ore 18 presso la spiaggia di Capratica. In caso di avverse condizioni meteorologiche, la pedalata si svolgerà il prossimo 2 giugno. Passiamo ora alla pagina sportiva. Per i campionati di calcio a 5 maschile, la Gymnastic Studio Futsal, nell'ultima giornata di Serie C1, ha pareggiato la trasferta in casa del Città di Pagliano, con il risultato di 4 a 4. I gialloblu chiudono l'anno in terza posizione con un totale di 58 punti. Per la Serie D, invece, nella ventottesima giornata di campionato, il Real Fondi ha vinto la gara casalinga contro il Città di Pontinia, con il risultato di 4 a 1, salendo a quota 44 punti, mentre l'atletico Sperlonga è stato battuto con 5 a 4 nella trasferta contro il Flora 92. Gli Sperlongani, attualmente, rimangono secondi a 62 punti, a 10 lunghezze dalla prima della seconda classe, la Virtus Latina Scalo. Le due compagini, a meno due partite dalla fine, il 1 maggio giocheranno la penultima giornata di campionato. Il Real Fondi sarà ospitato da Montilepini e l'atletico Sperlonga giocherà in casa con il Marina Maranola Calcio. Vediamo i risultati del settore giovanile dell'Unicosano Fondi. Si conclude al primo turno l'avventura della Ionores nazionale dell'Unicosano Fondi, ai play-off di categoria. Nella partita casalinga contro l'Alba Longa, i ragazzi rosso-blu sono stati battuti per 3 a 1. Marcatori di giornata Parielli, Nardi e Pantani, per la formazione ospite. A Vallone sigla l'unica rete fondana a 4 minuti dalla fine. Per quanto riguarda la gara in trasferta, disputata dai giovanissimi regionali dell'Unicosano Fondi, sul campo dell'Anzio 1 a 1 è stato il risultato finale. Sesto pareggio stagionale per i giovani rosso-blu di mister Mazzarella, che dovrà preparare le ultime due partite contro il calcio Sezze e la trasferta sul campo dell'Unipo Mezzia. Per il team Fondano, marcatore del match ad Anzio-Fustolo. Questa edizione del TG7 termina qui. Per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci alla nostra mail redazione chiocciolatvcanalesette.it o sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanalesette.it. Vi ricordo ora gli orari in cui andrà in onda il nostro TG. Alle 7.50, alle 13.50, alle 18.50, alle 20.50 e alle 23.50. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete.